E' arrivato Agumé, è arrivato Agumé, l'uomo che è di gambe e le altre! Allora, Agumé ha sbarcato a Malpensa. Che giocatore è Agumé? Non lo so ragazzi, si parla di un centrocampista, tuttofare, tecnico, veloce, scattante, in cursore, con buon tasso tecnico, ma tutto sommato, non so se poi è così tanto forte, vi dirà una bugia, potrei andare a vedere i video di YouTube stesso e far finta di averlo visto, ma non mi piace dire le bugie. Soprattutto, anzi, quasi esclusivamente quando si parla di Inter, e quindi niente, non so come sia questa Agumé. L'ultimo giocatore preso dalla Francia, gli ultimi due sono stati D'Albert, una merda colossale. Caramou, un talento sorprendente, che rimpiango ancora, che gradirei tornarsi all'Inter, quindi, non lo so, non lo so. Comunque è arrivato Agumé, l'uomo che è di gambe ne ha tre, per il resto si aspetta la firma di Lazzaro, che è stato chiuso, è stato chiuso Sensi, e bisogna solo cedere, i stronzi come Perisic, i cornuti viziati come Icardi, e bisogna aspettare il grande colpo. Va bene Agumé, va bene Lazzaro, va bene Sensi, va benissimo Barella, ma dobbiamo aspettare il grande colpo. Voglio, lo sapete, l'isco della situazione, e il sì che si può iniziare a sognare, ok? Ciao ragazzi, comunque, è arrivato Agumé, l'uomo che è di gambe ne ha tre, iscrivetevi al canale, e attivate la campanella. Welcome Agumé!